Ti voglio come vicepresidente. Io, George Bush, voglio te. Quando ottieni il potere, devi tenerlo stretto. Sempre. Christian Bale, Amy Adams, Sam Rockwell, dal regista della Grande Scommessa. Candidato a 6 Golden Globe. Scoprite la storia dell'uomo che nell'ombra ha governato il mondo. Stai diventando ogni giorno più spietato. Vice, l'uomo nell'ombra, dal 3 gennaio al cinema.